Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale alla Crypto Cup, siamo arrivati al quarto turno e stiamo per vedere insieme una partita un po' fuori dagli schemi. Il giovanissimo indiano Pragnananda di bianco contro il veterano Levon Aronian di nero. Non dimenticate il like al video, partiamo subito. Pragnananda di bianco apre con D4, Aronian risponde con cavallo in F6, C4 e il nero apre il fianchetto. Ora sappiamo che sono due i sistemi che possono uscire fuori dopo questa mossa G6, sono l'indiana di re e la Grunfeld. Cavallo in C3, D5, siamo nella Grunfeld. Ora invece di cambiare subito i pedoni, Pragnananda sceglie di sviluppare il cavallo in F3, la variante dei tre cavalli. E allora il fianchetto va completato il prima possibile, alfiere in G7, solo adesso cambia, C per D5. Il cavallo ricattura e siamo praticamente rientrati nelle linee principali e arriva la spinta che conquista il centro E4. Vedete, il cavallo sotto tacco può anche muoversi in B6, ma come linea principale c'è il cambio dei cavalli in C3. Allora il pedone B ricattura e vedete si è creata la classica struttura del bianco con i pedoni centrali contro la Grunfeld. Come svilupperà il nero? Il nero svilupperà pezzi e pedoni per mettere sotto pressione il centro, in particolar modo questa casa D4. Allora arriva subito C5 e qui naturalmente, guardate, non si può mica catturare, perché tra le varie c'è pure la cattura di alfiere, e poi sappiamo il cambio donna e micidiale per il bianco, e allora arriva al posto che torna in B1 una delle linee principali, oppure alfiere in E3 che solidifica il centro e arriva H3, quindi casa G4 sotto controllo. Arrocco corto mi pare proprio la mossa migliore per il nero e finalmente arriva E3. Attenzione però, non si può catturare perché il pedone rimane inchiodato. Allora donna in A5 lo attacca perché è sospeso e gli emette ancora più pressione, lo inchioda sul re. Cosa fa Pragnananda? Torna indietro con l'alfiere in D2 e pensate, siamo al momento critico di questa partita. Perché Aronian esce dalla linea principale, che come vi dicevo è lo sviluppo dei pezzi contro D5, quindi cavallo in C6 è la mossa più naturale, gioca B6. Mossa stranissima, giocata soltanto due volte, è una mossa per il computer sicuramente perdente. Eppure pensate, in entrambe le partite giocate il bianco ha sempre perso, e si parla di giocatori dai grandi maestri a maestri internazionali. Il bianco non è mai riuscito a punire questa imprecisione. Qual è il difetto di questa mossa? Lo vedete? Il bianco ha sempre giocato alfiere in D3, ma guardate che brutta posizione. Questo alfiere controlla queste case, di scoperta la donna è sotto attacco e la donna del bianco controlla A4. L'unica casa libera rimane A3. E allora Pragnananda gioca donna in B3, che seppur non perfetta, intanto è la novità che rende la partita originale, perché la perfezione sarebbe stata A4, ma questa donna in B3 lascia il bianco in vantaggio perché coglie in pieno il difetto della mossa B6. La donna del nero non ha più case. Cosa dovrebbe fare? Dovrebbe giocare B5 per aprire questa via di fuga alla donna, ma B5 perde un pedone pieno senza assolutamente nessun compenso e stanno per arrivare D5, tanto questo è protetto, e A4 il bianco con un pedone di vantaggio. Tutti i pezzi sviluppati e un controllo omicidiale del centro non avrà problemi a questi livelli a vincere la partita. E allora dopo donna in B3 cerca di rimanere in partita Ronjan, gioca alfiere in D7 e ora il bianco si deve muovere con estrema precisione e noi siamo arrivati al nostro cuizzone. Qual è la sequenza di mosse corretta per intrappolare la donna? Mettete pure in pausa e da voi la parola. Ritorniamo subito a questa partita. Vedete, non è naturalmente... Ho sbagliato. Vedete, non è naturalmente C4. C4 fa uscire fuori un sacco di frecce, ma più che altro vorrebbe attaccare la donna. Ma cosa fa di male? Intanto con l'alfiere in D7 era già disponibile questa casa A4 per la donna. Anche se non ci fosse stato quest'alfiere, vedete, questo pedone è vero che apre l'attacco sulla donna, ma chiude la via, la diagonale dell'alfiere e la donna potrebbe anche muoversi in A6. E pensate, con donna in A4 il nero è in forte vantaggio. E allora, visto che alfiere e donna puntano a questa casa A4, Pragnananda gioca la mossa migliore, A4. Qui, è il solito discorso, o si perde il pedone o si cerca un'altra strada, Aronian cerca un'altra strada e gioca A6. Vedete che succede? Dopo catture e ricatture varie, la torre è sospesa. E allora Pragnananda la mette al sicuro, giocando torre in A2, alfiere in C6 e adesso alfiere in B5 è la mossa perfetta. C4, ora qui non si può catturare il pedone centrale, vedete? Perché qui basta giocare C4 e la donna naturalmente è persa. E allora prova C4 il nero, che attacca la donna, la donna cattura in C4 e mantiene la protezione sulla torre. torre in C8 attacca la torre di scoperta, scusatemi, la torre attacca la donna di scoperta, ma attenzione perché questa torre è sospesa, ma intanto donna in B3 rimane la mossa migliore. A6 attacca l'alfiere e finalmente arriva C4. La donna di Aronian è perduta. Allora A per B5, alfiere per donna, il pedone B, è questa l'intermedia migliore, che attacca la donna, la donna ricattura, ma attenzione, non ci sono scoperte, perché questo alfiere è bloccato, è inchiodato sulla torre sospesa, e allora rivince il pedone B per A5. Aronian ha perso la donna per due pezzi, ma interessantissimo è vedere come chiudere la partita senza rischi. Allora, visto che non ci sono scoperte buone, arriva Rocco Corto, cavallo in A6, e veramente, visto che le torri sono connesse, il pedone è sotto attacco, allora donna in E2 a proteggere il pedone, cavallo in B4, attacca la torre, la torre si porta in A1, alfiere in E8, e qui torre in F che va in C1. Ecco il metodo, cambiare più pezzi possibile. Torre per torre, la torre di Pragnanda ricattura in C1, anche a costo di perdere un pedone, alfiere che cattura il pedone in A4. Attenzione perché Aronian, una parvenza di controgioco, pur nella disgrazia di questa partita, è riuscito a crearla, ed è il pedone passato in A5. Allora, cavallo in E5, pensate, il computer suggerisce addirittura, contro la strategia umana, di cambiare i pezzi per creare un danno, ma poi il bianco, dopo la ricattura, giocherebbe F4, per poi aprire la strada contro il re. Questo alfiere torna indietro in E8, e arriva donna in C4. Arriva H6, donna in C7, alfiere in F8, donna in B7, attacca la torre. La torre che non potrà più rimanere dietro il pedone passato, e sarebbe stato un aiuto incredibile, e allora torre in D8. Torre in C8, e qui, il nero minaccia un pedone, ma la torre è inchiodata su un pezzo, e allora anche l'ultima torre viene cambiata. Torre per torre in C8, la donna ricattura, attacca un pezzo sospeso, che si deve portare in A4. Ora, senza le torri, non sarà facile proteggere l'avanzata del pedone. Allora, donna in C7, qui è tutto coperto, attacca il pedone, che non si può difendere, quindi non solo che non è facile, era proprio impossibile, non si può difendere, perché sennò gli cambia tutti i pezzi. Allora, anzi, gli vince un pezzo, alfiere in E8, donna che cattura in A5. Cavallo in C6, perché era rimasto sotto attacco, cavallo per cavallo, l'alfiere ricattura, mossa decisiva, è D5, che crea sicuramente il pedone passato, e quindi Aronian abbandona. Stranissimo che Aronian abbia giocato una linea perdente al computer, forse cercava l'effetto sorpresa, ma Pragdananda, pur non avendola preparata al computer, altrimenti avrebbe giocato subito di botto questa A4, ha trovato comunque sulla scacchiera il modo di punirlo, con una manovra spettacolare, e l'India, si conferma veramente, fucina di campioni. Spero che la partita vi sia piaciuta, che vi abbia anche insegnato qualcosa, su come convertire queste posizioni vinte, che tantissime volte buttiamo al vento, vi ringrazio naturalmente per l'attenzione, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. A presto!